Lasciano ben sperare per il futuro dell'ospedale di Sant'Agata Militello gli interventi di adeguamento strutturali previsti per le sale operatorie, il pronto soccorso e il punto nascita, presentati questa mattina dal direttore facente funzioni dell'ASP5, Bernardo Alagna, che ha annunciato anche investimenti in nuove strumentazioni e l'impegno all'assunzione del personale salitario per i reparti sotto organico. Alla conferenza erano presenti alcuni sindaci del comprensorio che solo porchi giorni fa, durante un incontro al Castello Gallego, insieme agli altri primi cittadini dei comuni ricadenti nei distretti sanitari D31 e D29, avevano discusso della situazione degli ospedali di Sant'Agata Militello e Mistretta. Sì, devo dire che l'incontro è stato per certi aspetti molto confortante perché abbiamo dato nel dottor Alagna la volontà precisa di porre attenzione sull'ospedale di Sant'Agata Militello e quindi questo per noi è un motivo di conforto. Evidentemente il movimento che stiamo creando sul territorio, noi sindaci ma anche comitati di cittadini per accendere i riflettori sull'ospedale di Sant'Agata sta dando i suoi frutti. Perché noi nel momento in cui è stata pubblicata la rete ospedaliera, quindi la programmazione regionale della sanità siciliana, nel nostro territorio eravamo assolutamente soddisfatti per quello che era previsto, perché venivano mantenuti tutti i servizi essenziali, veniva aperta l'Utich, la Stroc Unit, due posti di terapia subintensiva. Credo che sia assolutamente responsabile da parte di noi sindaci accettare quello che era previsto nella rete ospedaliera, il problema è che è tutto rimasto sulla carta e quindi non ha trovato applicazione. Questa è una proposta che è partita da me perché ho avuto l'idea di chiamare i responsabili del Palamangano che hanno dato subito disponibilità per la realizzazione di questo hub, quindi ora nelle prossime ore faremo un sopralluogo con i tecnici dell'ASP per capire com'è possibile realizzarlo, nella speranza chiaramente che arrivino i vaccini.